musica 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 oh bella hai portato il mazzo che ti avevo prestato ma cosa? un mazzo di fiori? ma cosa dici? ma un mazzo di chiavi? che cosa? ma sei impazzito ma un mazzo di soldi? che cosa? un mazzo di carta e da dove sarà Gianluca? eh non so se vuoi che mi hai mai chiamato sono qua ragazzi eh no che stavamo per chiamare no ok vabbè però sono qua perchè voglio presentarvi un trucco di un dia bellissimo che mi hai detto come fare guarda c'è una carta a casa come questa guardatele ricordatele questo erano sei di cuori sei di cuori? covid si ma si si di nuovo di picche ah non è una piccola sei di cuori lo prendo lo metto così in mezzo schiocco le dita vai a schioccare vai schiocchiamo vai a schioccare vai ok guardate cosa succede torni no aspetta era un sei di cuori no non era un sei di cuori vabbè comunque non era questa carta aspetta stai in cima ma non sei capace no ma dati all'ipica vabbè Ale oh tu ti indica sai cosa hai imparato della nuovissima costruzione che hai fatto in questo esatto momento? e che cosa hai imparato? riesco a trossare un umano in umani in animali voglio vedere allora ci credi sei assoluto il suo corpo con un piccione? ecco ce l'ho fatta guarda non ci credevi eh? non ci credevi e volevi è una maschera ma come posso aver dimenticato cosa è la magia? e come posso aver dimenticato come farla? forse io non l'ho mai praticata o forse c'è stato qualcosa che mi è passato lo so lo so geni l'ho mai l'ho mai No, adesso non fermo, non so che ci dà, hai portato il cazzo di qui, no, vedi, scrivi, te lo stampa e lo mettilo lì, te lo metto qua, così, carattere 48, ah, 93, no, no, si, sfida, non so, io sono capace senza fare così, ah, perché ti ha la spinta, però se non l'ha spinta col dito riesci a fare la spinta, dai, 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 oi, dai, chiedi, sei com'è in pratica, un corso in unico fatto in questo momento, dimmi cos'è, riesco a trasformare l'uomano in essere umani, si esplode che figata, sta registrando, no